Ciao bagai, benvenuti in questo nuovo video che inaugura una nuova rubrica che terrò ogni mese, almeno lo spero. Sono i consigli per gli acquisti, ciò che secondo me uscirà di mese in mese meritevole per l'acquisto in casa Disney soprattutto. Non so se stenderlo anche a altri tipi di fumetti, magari se quel mese comprivo qualcosa di particolare sì, però non credo che vi interessi sapere, ogni mese che compro Batman, compro Rustman ogni due mesi, Rustman Gigante adesso lo seguo, Spider-Man, Iron Man, comunque sono fumetti che prendo sempre quelli quindi non ha senso. Inoltre in qualsiasi di questi video in cui parlerò di Disney non citerò mai né Wack né Topolino, Topolino perché sarebbe una stronzata parlarne perché questi video usciranno a fine mese più o meno, tra metà e la fine del mese, quando saranno già usciti almeno due numeri di Topolino e quindi Topolino è difficile da recuperare, quindi è inutile che ve ne parli. Però vi chiedo di mettere il mi piace sulla pagina di Facebook K4 Chaos, ho trovato il link in descrizione, in cui lì parlerò di settimana e settimana dei numeri di Topolino che io reputo meritevoli da comprare. Mentre invece non parlerò mai di Wack, non perché non sia meritevole, se non avete mai letto le storie di Barks, compratelo assolutamente, ma perché io avendo già quelle storie, alcune anche in 3-4 versioni diverse, sarebbe inutile comprarlo. Quindi non ci saranno mai questi due fumetti Disney, non perché io sia cattivo e non mi piacciono, ma perché appunto per diversi motivi. Partiamo subito da quello più urgente da comprare, perché il 25 di ogni mese esce il nuovo numero, quindi avrete pochi giorni per comprarlo, e sono i grandi classici Disney. Questa storica testata che con l'uscita di tutte le nuove, tutti i nuovi cazzi e mazzi che poi sono venuti fuori, Definitive Collection, i migliori anni, eccetera, eccetera, è nata un po' nell'ombra, come tutte le vecchie testate. Però i grandi classici, al contrario dei vari Paperino, i classici Disney, che veramente adesso sono la merda o quasi, questo merita di essere comprato, soprattutto questo numero che è veramente molto bello. Troviamo in apertura una storia rara di Zironi, perché io non l'avevo mai letta, e che veramente, Zironi ha uno stile molto particolare, molto, e questa storia è molto onirica, molto suggestiva. Io ve la consiglio, perché è veramente particolare. Alcune atmosfere sono quasi da... mi hanno ricordato Shining, il film, però comunque rimane sempre in bilico tra la realtà e la fantasia, come è lo stile di disegno di Zironi, diciamo, è molto utile a rendere tutta l'idea. E poi un numero molto variegato, perché presenta sia diverse storie di Guido Martina in diversi momenti della sua carriera. Quindi Agli Albori, con Paperino e l'oro del treno, in cui il suo cinismo impera come non mai. Paperino e il conte di Monte Cristo, che invece è qualche anno dopo, un paio da anni dopo. Qui c'è comunque molto cinismo, però è una delle grandi parodie più belle che siano mai state scritte. e si vede in queste due storie la differenza di finale per quanto riguarda Paperino, che nella prima Paperino è veramente trattata a pesci in faccia e Martina non si risparmia nessun colpo, mentre invece nel conte di Monte Cristo c'è una redenzione per Paperino. Per poi arrivare alle fantastiche imprese di Topolino Blitz, che invece siamo già agli anni Ottanta, Martina è vecchio e scrive queste storie che sono al limite dell'assurdo, sono veramente fuori di testa, un po' come quelle di Siegel. Quindi abbiamo una buona panoramica su Martina. Poi c'è una storia di Cimino con Scarpa, che fa sempre piacere. Poi abbiamo due storie che sono ristampate poco e ci sarà un motivo secondo me perché sono veramente due stronzate. Però anche queste bisogna leggerle per capirci, se sei un appassionato di fumetto Disney devi leggersi anche queste cose, che sono le storie in cui Maga Magò è innamorata di Macchia Nera. Sono delle porcherie assurde, però se sei un appassionato di fumetto Disney ci stanno. Mentre poi si chiude con, per esempio, Zio Paperone meccinato per forza, con i testi di Carlo Candy, i disegni di Giorgio Cavazzano, che sono una gioia per gli occhi, e una storia con Ok Quack, il papero alieno la cui da una vicella si è ridotta a una monetina e si è mischiata alle monetine di Zio Paperone. Ed è una storia di quella serie lì che a me fa sempre piacere leggere perché ne lette veramente poche, mi pare solamente l'esordio di Ok Quack e un'altra in cui appariva Ok Quack proprio come comprimario. Quindi, Grandi Classici, numero 341. Poi ho trovato veramente molto ben riuscito questo numero di topostorie, il numero 12, Uovo, Paperi e Conigli, il numero dedicato a Pasqua, e devo dire che topostorie, nonostante io all'inizio l'avessi proprio snobbata come testata, invece da 3-4 mesi a questa parte sto comprando ogni numero che esce, perché la trovo veramente valida in realtà, e avevo fatto un po' lo snob. In realtà, questo numero in particolare, a parte che pubblica un sacco di storie disegnate da Vicar, e storie comunque straniere, che sono rare comunque da leggere in Italia, quindi fa sempre piacere. Ma poi comunque anche delle storie veramente molto valide, per esempio, Giova Perone e le Uova di Qualità, è veramente divertentissima, con test e disegni di Maurizio Amendola, cioè vi dico solamente il plot di base, Giova Perone, che a causa dell'imprinting, si trova a fare da mamma una covata di pulcini, ed è veramente, a parte che io amo i pulcini, come animali mi fanno ridere, è già fuori i pulcini, ma poi, vedere Giova Perone che fa da mamma questi pulcini, è veramente divertentissimo, devo dire. Quindi, veramente una bella storia, che mi ha fatto ridere tanto, tanto, tanto. Poi, per esempio, però c'è spazio anche per storie proprio belle, cioè non solo divertenti, come Paperino e Il Segreto Pasquale, di Bruno Concina, e i disegni, mi pare, di Miguel Puyol, infatti. Che è veramente molto bella, penso che sia la storia di Pasqua sulla Pasqua più bella in assoluto, è veramente molto commovente, ci mostra un Paperino molto parxiano, perché Paperino non è, in realtà, Paperino non è il pigrone che è stato dipinto in diverse storie italiane, ma, in realtà, cioè lui è un personaggio molto tranquillo, molto rilassato, gli piace dormire, ma non è pigro, nel vero senso della parola, cioè che non ha mai voglia di fare niente, perché quando ha un obiettivo, quando ha qualcosa che vuole raggiungere, si attiva e lo fa in tutti i modi possibili. E questo è il Paperino di Barks, e questa è la caratterizzazione che mi piace di più di Paperino. E qui la troviamo in Paperino e il Segreto Pasquale, che è veramente una storia stupenda. Purno con Cina, da una festività, se lo vediamo, di serie B in confronto al Natale, come la Pasqua, è riuscito a tirare fuori, veramente, una storia che non ha niente da invidiare alle storie natalizie di Topolino, che chiaramente sono quelle che riescono di più di solito. E, boh, diciamo che queste sono le due storie più belle del numero. Però, comunque, il numero è molto variegato e merita di essere letto, perché ci offre una selezione molto varia, appunto. Molto un panorama ampio, una panoramica ampia su quello che è il funetto Disney, e vi consiglio di prenderlo. Passiamo poi a Pick Up a Giant. Questo è il primo numero che compravo, quello che è dedicato al giorno del sole freddo. Io mi sono ripromesso, dato che alcune storie di Pick Up, per esempio Trauma, le ho al momento in tre versioni, e quando uscirà poi il numero di Pick Up a Giant dedicato a Trauma, l'avrò in quattro versioni, di non comprare, di non seguire questa testata da zero, cioè rifarmi tutto Pick Up, perché veramente sarebbe stato come sputare in faccia al denaro che guadagno. Quindi, mi sono ripromesso di comprare solamente gli albi che preferisco in assoluto. Questa è una grandissima storia. Poi questo numero in particolare vale 3,50 euro ai costa solo per la copertina magnifica di Claudio Sciarrone. Forse preferivo quella originale, però questa è veramente spettacolare, con la citazione Ritorno al Cavaliero Scuro di Frank Miller, e poi soprattutto qualcuno si è lamentato che fosse troppo generica. Secondo me non è troppo generica, è troppo minimalista, magari. Troppo generica no, perché comunque riprende un momento ben preciso, un momento focale della storia, il giorno del sole freddo. Però non è troppo generica, forse troppo minimalista, però è comunque veramente molto bella ed impatto. Come una copertina dovrebbe essere. La storia poi è un capolavoro. Cioè, questo è veramente... Cioè, da qui in poi PKNA prende il volo. Quindi, ho detto di molti che erano indecisi se andare avanti con PK dopo i primi cinque numeri. Io vi dico, leggete questo. Se questo non vi piace, ma PK non fa per voi. Togliatelo pure dalle spese. Se questo vi piace, continuate. Perché veramente qua è l'inizio, secondo me, della stagione più bella, poi delle storie di PK fino al trentesimo lungolo, più o meno, se non ricordo male. Comunque questa storia è veramente bellissima, scritta da Alessandro Sristi e disegnata da Claudio Sciarrone. Piena di conflitti etici da parte di PK. E con un pericolo ben presente, bello concreto, insomma. Un'esplosione nucleare che dovrebbe investire Paperopoli. Il formato Giant, devo dire, che rende bene i disegni di Sciarrone, rende giustizia i disegni di Sciarrone. E niente, c'è anche un poster allegato e le rubriche, alla fine, che sono demenziali quanto basta, però chiaramente quelle che c'erano sui PK originali, secondo me, erano di un altro livello, ma alla fine, senza fare il nostalgic fag, però comunque erano di un altro livello, ma anche quelle sono carucce da leggere. Per quanto riguarda i poster, invece, abbiamo questa illustrazione dedicata alla storia di Stefano Intini, ma anche il poster con la copertina originale. Vedete? Questa qui di Corrado Mastantuono, l'originale del giorno del sole freddo. Io chiaramente non la stacco. No, anzi, potrei anche staccarla, effettivamente, perché è una copertina che ho sempre amato, è una delle mie preferite della saga di PK, quindi perché non dovrei staccarlo? Pensando...